La partita tra Partizan Belgrado e Dinamo di Berlino risolta per 1-0 e quindi a vantaggio della formazione che ha perso, vale a dire, la Dinamo di Berlino da questo gol di Precasi con un'ampia complicità del portiere della Dinamo di Berlino che si fa sfuggire un pallone carico di effetti rivedremo più avanti, sembra che possa addirittura controllarlo in qualche modo, invece il pallone gli schizza alle spalle e poi in rete ma la vittoria non serve a niente alla formazione di Belgrado, battuta per 2-0 l'andata, si qualifica la Dinamo di Berlino Come si qualifica il Rapid Vienna grazie al gol segnato fuori campo?